Oggi giornata importante, abbiamo posato la prima pietra per la realizzazione dell'asilo nido di Bellocchi una realizzazione importante perché qua c'era esigenza, essendo un quartiere popoloso, di dare una risposta a 0-3 anni che non era presente ma vorrei sottolineare che sta in un complesso, in una visione più ampia di città perché abbiamo pensato proprio di dare una risposta nell'organizzazione delle strutture scolastiche che siano sicure, moderne, che siano adeguate anche alle nuove esigenze con i consumi che siano attenti all'ambiente e vorrei ricordare che negli ultimi anni abbiamo investito quasi 15 milioni tra scuole elementari, asilo e dell'infanzia quindi questa è una scelta importante in una strategia che vede andare a dare risposte nei territori, nei quartieri abbiamo pensato ad una città, ad un centro sempre più bello per essere attraente ma abbiamo pensato ai quartieri dove vivono le persone per migliorare la qualità della vita significa anche migliorare i servizi partendo dalle bambine e dei bambini dai più piccoli